SOS TCS da Via Paladini, a Caltanissetta parla un commerciante con un appello al Comune. Via Filippo Paladini sicuramente è una grossa arteria per Caltanissetta non solo in termini di viabilità ma anche in termini commerciali ed è per questo motivo che oggi desideriamo lanciare un messaggio. In Via Paladini esistono all'incirca 45 attività commerciali che abbracciano diversi settori. Credo che manchi soltanto la banca in Via Paladini perché c'è anche l'ufficio postale. Nell'approssimarsi dalle festività natalizie chiediamo all'amministrazione comunale di tenere in considerazione di rivolgere lo sguardo anche alla Via Filippo Paladini venendoci incontro, dandoci la possibilità magari di allestire a festa la Via Filippo Paladini magari con le luminarie perché non penso che noi commercianti possiamo sobbarcarci di costi che in un certo senso spettano anche all'amministrazione comunale. Per presentare la Via Filippo Paladini vestita a festa sicuramente può invogliare l'utenza a non andare verso altri siti e verso altri lidi. Sicuramente la realtà commerciale di Galtanissetto non è facile. Cosa voglio dire? Che il comune non può, nessuno può permettersi di assistere alla chiusura di attività commerciali. Abbiamo pensato di creare un comitato dei commercianti della Via Filippo Paladini, un comitato apolitico e apartitico che vuole nascere soltanto per avere un dialogo aperto sia con il sindaco, con l'amministrazione e tutte le istituzioni.